Direttore, oggi si aprono i portali per la prenotazione degli over 40. Come siamo messi per oltre 80 anni, visto che in Italia mancano mezzo milione di dosi per questa categoria? La Toscana è la regione italiana che ha vaccinato più over 80. In Toscana sud-est siamo a una percentuale che supera il 95%. Per quanto riguarda invece gli open Astra o le giornate che vanno fatte in alcune regioni, lei cosa ne pensa? Allora, Regione Toscana ancora non ha deciso di fare queste iniziative. Io sono per farle, per consentire l'accesso liberalizzato al vaccino. Cioè se abbiamo dosi di vaccino sufficienti, sburocratizzerei il più possibile l'accesso e faciliterei la vaccinazione anche in ragione dell'approssimarsi della stagione estiva e dei movimenti delle persone tra le regioni. Sulla stessa linea anche Pasquale Giuseppe Macri, medico legale dell'ASL Toscana sud-est. Io sono favorevole agli open day perché riescono a coniugare una logica vaccinale per tutta la popolazione con alcuni bisogni emergenziali, come per esempio sta facendo ora la Regione Lazio che sta ipotizzando degli open day per i maturanti, per gli studenti che devono prepararsi all'esame di maturità. Nel frattempo è possibile legare a questa offerta gratuita ed eccezionale del vaccino AstraZeneca una maggiore adesione per far conoscere l'efficacia e la sicurezza di questo vaccino che purtroppo è stato messo a torto in discussione. Per quanto riguarda la cura con gli anticorpi monoclonali? La Toscana è una delle prime regioni italiane per l'utilizzo degli anticorpi monoclonali i pazienti presi in carico sono circa 700, di questi 700 circa 140 sono presi in carico presso l'ospedale d'Arezzo che è il primo ospedale della Regione Toscana per numero di pazienti trattati con monoclonali.